Buonasera, è stato diagnosticato un caso di dengue in una persona residente a Reggio Emilia recentemente rientrata dalla Thailandia, area in cui questa malattia è endemica. Lo ha reso noto la direzione dell'ASL, precisando che le condizioni di salute della persona non adestano preoccupazione. Sono immediatamente state attivate in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia i protocolli che contemplano le effettuazioni in un'area corrispondente al luogo di permanenza del caso segnalato di una serie ripetuta di disinfestazioni contro la Zanzara Tigre sia in area pubblica sia in area privata. La stessa procedura di disinfestazione è stata effettuata anche a Modena dove invece è stato segnalato un sospetto caso di Cicungudia e l'area interessata alla disinfestazione è avvenuta nella notte, quella invece compresa per quanto riguarda il modenese tra via Basile, via Gazzadi, via Fiorentino e strada Sant'Anna. Cambiamo argomento, andiamo alla cronaca nera. Si fingeva malato per andare prima del tempo in pensione un poliziotto 53, originario di Bari della Polaria. La polizia di frontiera in servizio all'aeroporto Federico Fellini di Miramare è stata arrestata in esecuzione dell'ordinanza del GIP Sonia Pasini come richiesto dal sostituto procuratore Davide Arcolani. Le accuse sono di truffa, i danni dello Stato e istigazione alla truffa assicurativa. Si fingeva malato per andare prima del tempo in pensione un poliziotto della Polaria, la polizia di frontiera in servizio all'aeroporto Federico Fellini di Miramare di Rimini è stato arrestato in esecuzione dell'ordinanza della GIP Sonia Pasini come richiesto dal sostituto procuratore Davide Arcolani. Le accuse sono di truffa, i danni dello Stato e istigazione alla truffa assicurativa. L'agente, un 53, originario di Bari, assistente capo della polizia di Stato, è da questa mattina ai domiciliari. Le indagini affidate allo stesso corpo di polizia della Polaria, fatte di pedinamenti e intercettazioni telefoniche, hanno messo in evidenza come dal 2014 ad oggi l'agente avesse prodotto certificati per malattie inesistenti come ernia del disco e sciatalgie, producendo un danno per le casse dello Stato di almeno 65 mila euro lordi. Secondo gli investigatori, il poliziotto voleva andare in pensione prima del tempo e per giustificare la domanda di congedo diceva di essere sofferente, oltre ad assentarsi dal lavoro per giorni di malattia pagati senza averne diritto. Per quanto riguarda la truffa assicurativa, gli inquirenti, mentre stavano indagando sul poliziotto per l'assenteismo, hanno scoperto che aveva consigliato ad un romeno di raccontare una falsa dinamica di un incidente all'assicurazione. Quando il romeno autonomamente aveva organizzato la truffa, il poliziotto pur sapendo tutto ha omesso di denunciarlo, venendo meno ad un obbligo di servizio. È stata assicurata alla giustizia la responsabile del furto di preziosi commesso il 6 luglio scorso alla gioielleria, all'orafo di via Giorgio Ragnoli a Forlì, carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Forlì, al comando del tenente Francesco Grasso, hanno individuato a termine di un'attività investigativa la ladra a Verdellino nel Bergamasco. Si tratta di una 46enne, già nota alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Determinante per le indagini è stata la visione delle riprese delle videocamere che hanno filmato un Audi A3 che si è poi scoperto essere utilizzata dalla donna proprio per raggiungere la città romagnola. Cambiamo argomento. Treni sempre in ritardo è evidentemente un luogo comune, almeno nella nostra regione, considerando i dati che riguardano i primi otto mesi del 2016. Da gennaio a fine agosto, infatti, il 90,4% dei treni sono stati puntuali, dunque sotto i cinque minuti di possibile ritardo. Tra i dati positivi c'è anche quello delle avarie ai mezzi a disposizione di Trenitalia, avarie che sono calate di ben 11 punti percentuali rispetto al 2015. Il servizio. In Emilia-Romagna ogni 100 treni regionali di Trenitalia sono stati più di 90 corrispondenti al 90,4% quelli arrivati puntuali, cioè non oltre i cinque minuti dall'orario previsto. E' questo il bilancio dei primi otto mesi del 2016 per quanto riguarda il trasporto su ferro utilizzato da tanti pendolari nella nostra regione. La percentuale sale al 93,3% nella fascia pendolari del mattino e si attesta al 90,7% in quella pomeridiana. La statistica tiene conto di tutti i ritardi generati da qualunque genere di causa. Da considerare poi che questi numeri sono stati realizzati in presenza di un aumento delle corsi in circolazione, che quest'anno sono state fino ad ora 105.490, ovvero più di 1,5% rispetto al 2015. Sempre riguardo ai ritardi, il trend vede la percentuale globale migliorare di mezzo punto rispetto al medesimo periodo del 2015. In calo anche la quota delle corse cancellate nella nostra regione, sempre confrontando il dato con quello dello scorso anno. Lo 0,8% di questi primi otto mesi del 2016 contro l'1,7% del 2015. Dato tra l'altro che si riduce allo 0,5%, era dell'1% nel 2015, se si considerano solo le cancellazioni per cause ascrivibili a Trenitalia regionale. Ancora più considerevole infine il dato che riguarda le avarie dei mezzi a disposizione di Trenitalia. C'è stata una riduzione di 11 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2015. Abbiamo parlato ieri del Fertility Day, allora torniamo sull'argomento perché lo spunto arriva da Bologna. Il villaggio della fertilità non si farà il comune di Bologna, infatti chiesto ed ottenuto dal Ministero della Sanità di annullare l'iniziativa che si sarebbe dovuta svolgere il 22 settembre prossimo in piazza Nettuna, comunicarlo al Consiglio Comunale. È stato l'assessore della sanità Luca Rizzo Nervo, dopo l'ordine del giorno presentato da Coalizione Civica per chiedere alla Giunta di rescindere l'accordo siglato col Ministero. La campagna comunicativa affiancata al Fertility Day ha tradito profondamente l'impostazione originaria di questo evento, ha sottolineato Rizzo Nervo aggiungendo che il tema della fertilità è stato trattato in maniera sbagliata e a tratti anche abbastanza volgare. Restiamo proprio a Bologna, si sono candidati in 3.000 per aver accesso attraverso il test d'ingresso alla Facoltà di Medicina dell'Università di Bologna che mette però a disposizione poco più di 400 posti. I test si sono svolti questa mattina in Fiera Bologna, non senza lo sgradito antipasto notturno di una protesta messa in atto da alcune associazioni che si sono presentate in aziende ospedaliere in tutta Italia e dunque anche aziende ospedaliere bolognesi per lamentare la connessione tra il numero chiuso e la chiusura degli ospedali di servizio. Per 400 posti disponibili si candidano in 3.000 è quanto avvenuto questa mattina in Fiera Bologna dove era in programma il test d'ingresso alla Facoltà di Medicina. I posti che l'Alma Mater rende disponibili per il corso di laurea sono poco più di 400 ma nelle aule della Fiera si sono assiepati ben 3.000 candidati all'ingresso in facoltà. Fra gli aspiranti medici il più anziano è un classe 1954 e del gruppo fanno parte anche 40 studenti stranieri per i quali la soglia di accesso è più bassa e il test prevede anche una certificazione sulla conoscenza della lingua italiana. Nel complesso i ragazzi hanno dovuto rispondere a 80 domande in 100 minuti spaziando dalla matematica alla chimica, dalla logica alla cultura generale. Da segnalare che nella notte le associazioni a rete della conoscenza, l'Inche e Unione degli Studenti hanno fatto un blizzi in alcune aziende ospedaliere comprese diverse di Bologna affiggendo cartelloni e striscioni con la scritta il numero chiuso chiude gli ospedali per sottolineare che il forte legame tra numero chiuso e i tagli che da anni sono stati inferti alla sanità pubblica. Restiamo in tema di studio e di università. Il Master in giornalismo dell'Università di Bologna ha ottenuto la Convenzione dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti e sta preparando la sua riattivazione per gennaio 2017. Il bando di ammissione per il Biennio 2016-2018 sarà pubblicato a fine settembre. Informazioni si possono trovare all'indirizzo di posta elettronica www.mastergiornalismo.unibo.it La frequenza al Master di primo livello equivale e sostituisce il praticantato che è poi necessario a sostenere l'esame di Stato da giornalisti professionisti. Si pronunciano giorni di bel tempo e di sole nella nostra regione. La conferma arriva dai nostri esperti di Trebbi Meteo che come ogni martedì abbiamo intervistato per sapere appunto quale sarà il tempo nella nostra regione nei prossimi sette giorni. Il servizio? Nei prossimi giorni il tempo migliorerà su gran parte della regione. A dire il vero sull'Emilia è già bello in queste ore ma sulla Romagna continuerà a persistere una nuvolosità a tratti anche irregolare con il rischio per qualche nuovo piovasco temporale anche nella giornata di domani specie in montagna e verso il Riminese. Poi per il resto tornerà al bel tempo. E infatti atteso un nuovo rinforzo dell'anticiclone sull'Europa centrale che quindi ingloberà anche le nostre regioni settentrionali. Il tempo sarà pertanto soleggiato almeno fino al weekend e forse anche in visto della prossima settimana un po' su tutta la regione con clima sempre piuttosto caldo e valori massimi fino a 30 gradi sulle pianure emiliane ma anche sulle aree interne romagnole. Sarà un po' più fresco l'unico poste dove i venti spireranno da nord-est almeno fino a giovedì mattina con delle raffiche di bora anche piuttosto sostenute soprattutto domani e mani mossi. Ma per il resto sarà bel tempo almeno fino al weekend e forse anche oltre. E chiudiamo con una notizia di sport di ciclismo in particolare Vincenzo Nibali e Fabio Aru ma anche il bronzo olimpico tra le donne Lisa Longo Borghini sono solo tre dei protagonisti annunciati alla 99esima edizione del Giro delle Miglia di ciclismo in programma il 24 settembre prossimo partenza dalla Fiera di Bologna arriva al Santuario della Beata Vergine di San Luca con la salita finale completata per 5 volte quando il gruppo degli uomini avrà percorso 213 chilometri la corsa organizzata dal gruppo sportivo Emilia è un punto di riferimento per il finale di stagione anche in vista del Mondiale in Catara previsto a metà ottobre. E adesso vediamo che tempo farà nella giornata di domani. Domani c'è l'imprevalenza serena sulla pianura con nuvolosità sparsa sui rilievi e associata a residui rovesci sulle colline romagnole temperature minime inflessione con valore attorno a 16 gradi massime senza variazione di rilievo comprese fra i 30 gradi di Piacenza e i 25 gradi di Rimini i venti saranno provenienti dai quadranti orientali deboli moderati sull'entroterra moderati e temporaneamente forti sulla costa e sul mare nel pomeriggio progressiva attenuazione della ventilazione mare adriatico in mattinata molto mosso agitato a largo nel pomeriggio moto ondosi in attenuazione. È tutto per l'edizione di questa sera noi vi lasciamo all'approfondimento di Oltre la Notizia andremo a Bagnara state con noi per scoprire il perché da Claudio Bolognesi una buona serata a tutti. Bagnara Grazie.